Stasera per continuare questa nostra serata ci è venuto a trovare una grandissima voce che si è trovata qualche anno fa catapultata partendo da The Voice non soltanto famosa in tutta Italia ma nel mondo ed è legatissima ad Assisi ed è anche particolarmente emozionata proprio perché ad Assisi è Suor Cristina! Buonasera a tutti! Ciao Carlo! Come stai? Bene bene, emozionata come ho detto tu. Sei chiesa perché Assisi per te vuol dire molto? Sì, c'è questo legame affettivo con Assisi sicuramente spirituale perché appunto ho anche rinnovato i primi voti, qui ho scelto Assisi per rinnovare i primi voti e che dire, sono qui anche appunto con il cuore disposto ad offrire anche la mia passione per una finalità molto grande. E questo donno meraviglioso che ti ha dato Dio che è questa voce meravigliosa. Il brano che hai scelto per iniziare ufficialmente questo nostro appuntamento è I Surrender, cantato da Céline Dion nel 2002, ma niente è in confronto alla voce di Suor Cristina. Grazie. Ti ho messo a tuo agio eh? Proprio. Ti ho messo a tuo agio. Sì, mi sento proprio comodo. Ti ho messo a tuo agio. 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 To feel the chance to live again I wish to you I know you can feel it too We make it through A thousand dreams I still believe I make you give them all to me I hurt you in my arms And never let go I surrender Every night Getting longer And this fight Got a strong baby I swallow my spine Under the unlight Can't you heal my core I surrender I surrender I surrender Everything To feel the chance to live again I wish to you I know you can feel it too We make it through A thousand dreams I still believe I make you give them all to me I hold you in my arms And never let go I surrender To feel the chance to live in my arms And never let go 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 Io sto proprio in panico Totale Vieni qua Vieni qua Rilassati Ciao Quanto siete belli Ciao Ciao Che bellezza Ma dove ce l'ha questi polmoni su organizzano? Ma è una cosa incredibile Non lo so Più la sto tremando Stai tremando ancora? Guarda di solito Quando un cantante di questo livello Trema un po' L'applauso è doppio Grazie E tutto passa Grazie Grazie Ora Dendo questo Fate finta Hai detto bene Votate Votate la solidarietà 45504 Però Noi siamo abituati al televoto Stasera è una sorta di televoto A favore della solidarietà Assolutamente Bisogna sostenere la solidarietà Bisogna Soprattutto perché Sapete cosa succede? Che quando Io faccio esperienza almeno di questa cosa Quando ti fanno un regalo Sì sei felice Ma quando tu lo fai agli altri Ti riempi di gioia ancora di più E quindi Penso che questa sia la cosa più importante E noi siamo qui Proprio per gli altri Per aiutarci gli uni con gli altri E magari aiutare anche quelli Che sono più piccoli di noi Che hanno più bisogno di noi E hanno più bisogno di essere sostenuti Per cui 45504 Ciao Ciao a tutti Ciao Suor Cristina Ciao Inbraccio Gesù Me l'ho detto Grazie 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 a tutti